Alvia i saldi in Veneto fino al 28 febbraio. Per molte persone sarà l'occasione per rinnovare il guardaroba, ma i bassanesi quest'anno o non hanno soldi da spendere oppure hanno già fatto acquisti. Quest'anno c'è la possibilità di spendere qualcosa per i saldi? No, non c'è niente di spesa. Purtroppo i tempi sono quelli che sono e valuto le mie possibilità. Ho comprato l'anno scorso, ho fatto dei buoni acquisti e per quest'anno vado bene. Roba in casa ce n'è e quindi se c'è un'occasione proprio che è una cosa che ti può piacere di più, allora sì la compri, se no ne facciamo anche a meno. Si rimanda l'anno prossimo casomai? Sì. Abbiamo già abbastanza, come dire, in guardaroba possiamo anche utilizzare quello che abbiamo. Che capacità di spesa c'è quest'anno? Ah, poco, poco. Poco purtroppo. Però dai, qualcosina riusciremo a fare. Bisogna vedere come siamo messi a finanza, dobbiamo fare un po' il totale delle somme. Quest'anno approfitterà dei saldi che iniziano domani? Ma facciamo per fatto così. Noi altri pensionati dobbiamo approfittarne dei saldi, se no come sai che farissimo? Anche perché oltretutto la pensione non cresce mai, accada sempre di più.